Non c'è un modo di sistemare le cose, vero? No, ma so che mi sentirò meglio quando consegneremo Odino alla giustizia. Giustizia? Non è la giustizia che cerchiamo, è la vendetta. Ogni strada che percorro mi riporta alla vendetta. Forse non ci rimane altro. Torniamo da Freyjan. Quando torneremo, noi andremo veramente in guerra. Siamo giunti a questo. Sì. Quando eravamo a Svartalfile, in cerca di Tyr, non è questo che volevo. Oh, che intendevo. Non se significava perdere Broca. Sì, Atreus. Lo sappiamo. Abbiamo davvero portato via tutto, Svartalfile? Non va a dare troppo a ciò che viene detto nel lutto, Atreus. Anche se sembra giusto. Un'altra risposta. Un'altra risposta. Grazie a tutti. 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 Niente di meno. Vuoi riuscire a unire gli Elfi dopo secoli di guerra? Beh, mi amano molto ad Alfaim. E tu? A Vanhaim? Sì. Per cercare Sigrun e radunare le Valkyrie. Mi devono esercito. Né Nifelaim, né Jotenaim. Rimane solo Svartalfaim? Vado io a Svartalfaim. Sindri! Ne sei sicuro? Ho detto che vado. Così sia. Buona fortuna a tutti. Si va a Muspelheim in cerca dell'ultimo gigante del fuoco. Quasi invidio le ardue imprese altrui. Quasi invidio le arduo. Quindi sai dove cercare Surtur? Già. Ho svelato i segreti del suo altare mentre ero a Muspelheim con Thor. Thor? Tranquillo. Non mi ha visto entrare. Ti preoccupa altro. Ora ascolta. Quando troviamo Surtur, dobbiamo convincerlo a unirsi con sua moglie. Sinmara. Unirsi? Già. Loro due si... Fondono. Creano un gigantesco mostro per distruggere Asgard. Oh no! Desolato. Ho alcuni dubbi relativi alle negoziazioni con Rasvelger e Eliu. Sono convinto che potrebbe essere più propensa a parlare con un membro dei morti. Mimir, c'è bisogno di te. Oh, la morte ora è un'abilità? Immagino che questi due potranno cavarsela da soli. Fratello, se non ti dispiace. D'accordo. Molte grazie. Con voi ci vediamo dopo. Ehi. Credo di riuscire a scorgere la fucina di Surtur. La moglie di Surtur? Lei dov'è? A Nifelai. Credo.